Ben tornati, l'informazione di Senigallia Web TV martedì 23 di agosto. Chiamo un'ambulanza, nel frattempo muore la tragedia, si è consumata domenica notte intorno alle 3 nel quartiere delle Salini di Senigallia, dove un 57enne è stato trovato riverso a terra in via delle Viole, in prossimità dell'ufficio postale. Sul posto 118 e polizia confermata la morte per cause naturali. I carabinieri di Senigallia hanno arrestato un 28enne di San Severo sospettato di un incendio che nel marzo scorso coinvolse anche una jeep parcheggiata nei pressi di un bar di via Pierelli. Sul posto sono state ritrovate all'epoca due flaconi di detersivo con residui di materiale infiammabile e le immagini delle telecamere di sorveglianza. Avevano ripreso una persona a volto coperto mentre appiccava il fuoco in più punti all'esterno del locale. I vigili del fuoco dell'istaccamento di Senigallia ieri sono intervenuti in A14 Corsia Sud nei pressi del casello di Montemarciano. Una moto sidecar BMW con due persone a bordo ha perso il controllo urtando diverse volte la barriera New Jersey. I vigili del fuoco hanno districato il conducente consegnandolo ai sanitari del 118. Ancora cronaca, marito e moglie in vacanza si picchiano davanti ai figli minorenni che li implorano di smettere. Niente da fare però perché tanta era la rabbia da sfogare l'uno contro l'altro che non sono stati a sentire nemmeno i bambini. La polizia è intervenuta per riportare la calma, l'hanno invece dovuta ascoltare. La lite è terminata con il ferimento di entrambi che sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso dove sono stati dimessi con prognosi non gravi. Cambiamo pagina. Dopo l'avvio della fiera campionaria di Senigallia si attende l'ormai consolidata fiera di Sant'Agostino che dal 27 agosto pomeriggio fino a tutto il 30 si svolgerà nel centro storico cittadino. Si può dire è una grande tradizione, tutti l'attendono. Quest'anno penso che ci sia un contesto sicuramente di grandissima qualità, una piazza ritrovata che serve anche per la fiera di Sant'Agostino. Ci saranno le bancarelle, ci sarà la vivacità del nostro centro storico ovviamente con un tappeto unico che sarà in grado di esaltare ancora di più quello che i nostri concittadini, il nostro territorio, i nostri tanti ospiti di questa stagione potranno trovare e potranno ammirare. Un'estate con i fiocchi, quella messa a punto dall'amministrazione comunale corinaldese. Tante sono state le attività culturali, sportive e ricreative. Il sindaco Matteo Principi ci fa un pochino il resoconto e ci anticipa gli avvenimenti futuri. Tante iniziative che soprattutto hanno voglia e come si pongono come obiettivo far conoscere quella che è la cultura, di un luogo le sue tradizioni. Pensiamo alla rievocazione della metitrebbiatura che si è svolta pochi giorni fa a Ferragosto ma pensiamo anche a momenti musicali o a momenti che parlano di sport come una gara ciclistica che si svolgerà qui a Corinaldo il 4 settembre in collaborazione con il pedale chiaravallese ma anche con la collaborazione di tante altre associazioni, l'associazione L'Amore Donato, l'associazione Rose Bianche sull'asfalto proprio perché vuole emergere da questi momenti come parlando di ciclismo e di sport quello che è veramente il vero sentimento che sono i valori, i giovani, la prevenzione dello sport rispetto alle problematiche giovanili e quindi ecco che un turismo che si vuole far conoscere la bellezza di un borgo, di un centro storico, un paese più bello del mondo ma uno dei borghi più belli d'Italia, destinazione turistica d'eccellenza con il premio Eden europeo, le bandiere arancioni, la bandiera verde Le condizioni del tempo di mercoledì 24 di agosto sulle Marche, cielo sereno, assenti le precipitazioni, i venti con lo stesso copione moderati a tratti forti specie da nord-nordeste più avvertibili sui settori nord e costiero, le temperature in leggera ripresa Previsioni monitorate dal servizio agrometeo regionale dell'Assam Grazie per averci seguito, come al solito l'appuntamento è a domani, vi aspetto